Nuovo appuntamento di parole, 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 nuovo appuntamento con la lingua italiana. La parola che abbiamo scelto di approfondire oggi insieme è ammirazione. Ammirazione è un sostantivo femminile singolare che deriva dal latino ammiratio, cioè ammirare, atto di ammirare, sentimento di attrazione che si prova verso cose o persone che sono particolarmente belle, pregevoli o di stima e rispetto verso qualcun altro. Tra i sinonimi possiamo citare meraviglia, stupore, incanto, approvazione, lode, rispetto, considerazione. Tra i contrari invece odio, disprezzo, disdegno ma anche biasimo. L'apprezzamento è una cosa meravigliosa, diceva Voltaire. Questo perché? Perché oggi abbiamo deciso di analizzare l'ammirazione come valore principale nel rispetto delle altre persone. Perché è giusto ammirare, tessere, le lodi di qualcun altro, di qualcun altro che lo merita. Quindi è giusto provare ammirazione verso qualcun altro, non provare rancore, non provare invidia verso le gioie, verso i traguardi raggiunti da altre persone. Ecco, l'ammirazione è un dono, un dono nella nostra vita ma anche un dono che possiamo regalare agli altri. L'apprezzamento, quindi dicevo, la frase che abbiamo scelto oggi è di Voltaire, diceva L'apprezzamento è una cosa meravigliosa, fa sì che ciò che è eccellente negli altri appartenga anche a noi. Ecco, prima ho anticipato questa cosa, ho detto l'apprezzamento è una cosa meravigliosa per noi ma anche per gli altri. Ecco, Voltaire dice proprio questo. Dice, l'apprezzamento è una cosa meravigliosa, fa sì che ciò che è eccellente per gli altri in realtà diventi anche eccellente per noi. C'è gioire, apprezzare qualcun altro delle sue capacità, apprezzare dei traguardi raggiunti. Ecco, ci rende delle persone appagate, felici perché gioiamo delle conquiste, delle capacità di qualcun altro, di qualcun altro che ci circonda, che conosciamo, che sia un nostro familiare, un nostro amico o semplicemente una persona che conosciamo. Ecco, è questo quello che vorrei dire Voltaire. È una cosa meravigliosa, fatela vostra, fate in modo che l'apprezzamento diventi una cosa comune tra chi viene apprezzato e chi prova apprezzamento verso quella persona. Siamo giunti al termine di questa puntata, io vi ringrazio per averci seguito. Ovviamente vi ricordo le nostre pagine social, continuate a scriverci su Facebook e Instagram, su Sicilia24 e Spazio Notizia e ovviamente saremo lieti di approfondire le altre parole della lingua italiana insieme a voi nel corso delle altre puntate. Grazie ancora una volta per averci seguito, parole parole parole, torna domani.